Buongiorno e buon venerdì. Allora pollicione, se volete iscrivervi ringrazio, attivate la campanella per ricevere le notifiche e ringrazio tutti quelli che condividono, commentano e sostengono sia questo che il nostro secondo canale e ci aiutano a farli crescere. Un ringraziamento speciale a Nadia e a fratello Luke per i super grazie. Velocemente perché la prossima settimana è quella che vi toccherà di più perché ci saranno le lavorazioni ordinarie, sperando che chi di voi si trova ancora nel limbo abbia una risposta. Purtroppo è così che vi fanno vivere e questa è la realtà. Col favore delle tenebre citando Alessandro Mr. Lull, il governo ha varato la manovra economica. Ha detto non voglio tirarvi troppe scatole. è una manovra che ha un vago sentore di tizi che parlano dal balcone. Perché? Allora parte il mantenere gli scaglioni sugli sgravi relativamente alle pensioni. Scaglioni che però di fatto non aiutano chi prende la pensione bassa, ma soltanto chi prende pensioni medio-alte perché è lì che ci sono vantaggi. Le altre non hanno nessun vantaggio da questi scaglioni e questa è la realtà. Aumenti delle minime di invalidità parziale non pervenuti. Aumenti reali delle pensioni idem non pervenuti. Le accise sul gasolio, quelle che la Meloni faceva al video con la Spirituosa, stai tranquilli, le accise ci saranno. Semplicemente hanno fatto un giochetto che faceva benissimo anche il fusilio. Intanto facciamo passare il discorso di aumentare le accise sulle forniture d'energia e poi lì dentro ci infileremo anche l'aumento dell'accise sul gasolio. Perché sennò troveranno sicuramente una motivazione ridicola. Perché ridicola sarà? Per dire che, eh mi avete visto, non l'abbiamo fatto noi adesso. Poi tra un mese o due, eh ma da quella norma ci si aumenterà anche il gasolio. Perché? Eh, perché ce l'ha detto la von der Fessen. E noi da bravi esecutori di ordini, quelli del è finita la pace per l'Europa, eh si è visto, faremo esattamente quello che ci ordinano. Perché abbiamo una spina dorsale che al confronto un lombrico ce l'ha fatta in adamantio. In compenso altri bonus in arrivo per chi, per chi avrà dei figli. Ah, un altro bonus per i bebè, un altro, tra l'altro l'assegno unico, finalmente si dovrebbe, perché io finché non vedo la gazzetta ufficiale vado coi piedi di piume, si dovrebbe poter scorporare dall'Isee, quindi venir tolto e questo sarebbe anche un vantaggio. Ma siamo sempre qua. Il riferimento è ai nuclei familiari. La stessa cosa del rifinanziamento della carta dedicata a te, che sapete che i single non la prenderanno mai. Tutte le misure economicamente incisive, però posto che siano incisive perché fanno ridere i polli come cifre, cioè il 1000 euro di bonus per un neonato. Allora, chi ha avuto un bambino sa che 1000 euro il neonato se le spappola in un mese senza far fatica. È uno dei grandi problemi di un paese in cui ti danno una mancetta e poi ti pelano come un'anguglia su tutto il resto, libri, sanità e tutto quanto. Ah, rifinanziamento della sanità, eh certo, con i soldi che gli daranno, sì sì, magari aprono un paio di ambulatori. Servirebbero rifinanziamenti massicci, assunzioni pesanti, di questo non c'è traccia. Però ve l'ho detto, danno un bonus in più a chi mette al mondo un nuovo cucciolotto. A me ricorda molto il numero e potenza che diceva un certo coglione che stava sopra un balcone. Lui e i suoi milioni di baionette. Si è visto che fino hanno fatto quei milioni di baionette. Le facevano con le cancellate le baionette. Poi cosa, ovviamente il ponte rimane, non si parla di togliere delle scatole e quell'aborto mai riuscito, figuriamoci. Ma fattualmente, diciamolo, non è questa la politica giusta per incrementare le nascite, cara signora Ricottara, perché con queste sono mancette, queste sono mancette che non servono a niente. E di fatto vengono esclusi tutti i single. Io non ho visto provvedimenti a favore dei single. La famosa norma sui caregiver di cui blatterava la Locatelli avrebbe portato la legge in Parlamento a settembre, siamo a metà ottobre, non ce n'è traccia. Però è tutta fomentata per questo G7 sulla disabilità, che è utile come avere un tavolo a due gambe. Questa è la realtà. Però ragazzi, oh, sono tutti contenti. Non ho capito perché, se sono così convinti della qualità di questa manovra, se questa manovra non è una tosatura delle pecore, se questa manovra fattualmente mette poco e quindi non cambia niente nei settori più critici, cioè scuole, sanità e pensioni, perché l'ha fatta di notte. Cioè, se gli aumenti saranno effettivi e bilanciati al costo della vita, perché l'ha fatta di notte? Perché in realtà questi aumenti non cambiano niente. Il potere d'acquisto continuerà a calare perché non si toccano i salari. Non c'è un salario minimo, ma non c'è neanche un'idea di riequilibrio dei salari, non c'è un'idea di riequilibrio delle pensioni, non c'è un'idea di riequilibrio delle misure di welfare. E anche qui non si parla in nessun punto di ADSFL. Eh, le hanno fatte, hanno fatto la loro sceneggiata e adesso, come soldi, possono tranquillamente funzionare male come funzionano male attualmente, tanto loro che ne ne frega. Tanto dall'altra parte chi parla? Lashline? Per favore, non facciamo ridere i polli. In compenso, è partito il primo trasporto straordinario verso l'Albania. 16 persone. Benissimo, di quelle 16, 5 già devono tornare indietro perché non rispettano le norme stabilite nell'accordo. Grande, è così che si fa. E rimane sempre il VUNUS, che se il paese da cui sono venuti non se li riprende, qui stanno. E questa è la realtà. Questo è un problema europeo e mi sembra che, a parte Conte, nessuno in politica in Italia sia andato a far presente che così non si può andare avanti. L'Italia non può diventare il deposito. Ah, si tratti tranquilli che poi arriverà l'Alessandro Masala di turno a dire, eh ma in Germania ne prendono di più. Sì, e se li scelgono pure, per essere chiari. E non mi sembra che la Germania attualmente sta andando benissimo come economia. E se quello è il treno d'Europa siamo messi bene. Niente ragazzi, questo qui è lo specchio di una manovra che ovviamente costerà sacrificio agli italiani perché non va a incidere sui problemi seri, cioè sui costi della vita, sui costi della sanità, cioè il costo per voi utenti della sanità, per il costo della scuola, non aiuti i pensionati, tranne appunto quelli che hanno una pensione già alta e quindi forse avrebbero meno bisogno di un aiuto, ma le norme che vengono sostenute sono quelle che invece aiutano proprio questi pensionati. Non ci sono incrementi per le disabilità, non ci sono vere misure di sostegno, le misure di sostegno attuali sono praticamente, ma probabilmente manco si ricordano che esistono, ogni tanto la calderone quando dà una botta contro uno spigolo si ricorda che ha fatto l'Adi e l'SFL, per il resto non gliene può fregare di meno, infatti vedete come funzionano da schifo e nessuno dice A, e vedrete, andrà votata, certo andrà votata, ma non pensate che cambierà di molto, al limite metteranno l'ennesima fiducia, quando le faceva Conte contestavano le fiduce dicendo che erano troppe, le contestavano anche i tempi di Renzi, per dire troppe fiduce, troppe fiduce loro le fanno il triplo, ma chi se ne frega, è un po' il discorso che accade con i tempi di Raghi, no? Troppe fiduce, troppe fiduce faceva Conte, Draghi ne ha fatti di più, troppi di PCM, di PCM e ne fa di più anche questo governo, ma non gliene frega un cacchio a nessuno, perché la sostanza è che con questa maggioranza possono fare il cavolo che ne hanno voglia, stanno mandando il paese in vacca, ma nessuno dice niente. Tanto, quali sono le vere misure contro il problema dell'evasione fiscale? Beh, non pervenute, perché non tocchi il tuo elettorato. Per la sanità, la mancetta, per la scuola, la mancetta. Se non ricordo male, in Italia circa il 40%, però correggetemi, sto andando a memoria e non mi ricordo, solitamente la cifra degli edifici scolastici non è a norma, quindi mandiamo i ragazzi a studiare in edifici che sono pericolosi. Oltre a quello, non gli facciamo ricomprare libri che sono uguali uno all'altro, gli cambiamo solo la copertina, sono soldi buttati, ma chi se ne frega. Le famose cancellazioni delle liste d'attesa, sì, va bene, se è una barzoletta non fa ridere, perché la faremo, la faremo, quando non saremo più al governo noi. E visto come è messa l'opposizione, mi sa che il problema si rappresenterà tra un paio d'anni, perché si dà una svegliata e la cartonata, scusatemi, ma si leva dalle balle, perché non se ne può più. Ha ragione i ragazzi dei sostenitori di Conte. Quella sceneggiata con Jax non era, mi sono buttata. Era preparata, era preparata. Lei è un elettorato di riferimento e non ho capito qual è. Cioè, è gente che magari manco va a votare. È gente che vive nelle nuvole come le sardine. È gente che a fronte di un problema concreto spara puttanate che mamma mia, ci fai fuochi artificiali del 4 luglio in America, o le puttanate che dicono. Ma va tutto bene, no? Questa è l'opposizione che abbiamo creato. Un'opposizione che vuole portarsi in casa una persona che ti toglie voti, come Renzi, una persona che dice una cosa e il giorno dopo ne fa un'altra, come Calenda, che dice che le opposizioni non devono frignare per le elezioni di Marini. A uno così, il vero voglia di accarezzargli la testa e gli gli senti, caro, i casi umani, come te, è vero che la legge è basale, li lascia andare in giro, però abbiamo anche un limite a sopportarli. E quindi lei dirà quello che, preparatevi a sentire, che la legge è buona, che lei intervie sulle cose giuste, che loro stanno facendo le cose giuste, che loro sono un governo sedio, fa niente se hanno una ministra indagata, impuzzolentita fino a qua, che non si dimette, perché carità di Dio, a tanti di quegli amici che manco la regista di Papp Music, e altre cose così. Chiudo su una cosa ringraziando per l'ennesima volta la piattaforma per le cazzo di censure che fa sui commenti. Io mi sono rotto le balle, se sto facendo una chiacchierata attraverso commenti con Greg, tu non mi togli i commenti solo perché hai riportato la battuta di mia cognata quando gli avevo raccontato la storia di Franceschini. La faccio qui, poi chiudo il video, perché... Quando gli aveva detto che Franceschini non distingueva, ed è vero, l'ha beccato striscia di notizia, l'e-video è comunque il video del tempio, l'internet era una cosa ancora, era palese. Non distingueva il culo di una mucca dal culo di un toro. E mia cognata mi fa, doveva provare a mungerle. Sarei stato anch'io molto curioso di vedere quando il toro si girava e gli faceva un paio... ecco, ricordatevi, Franceschini è quello che ha alzato il 40% dal tax credit consentendo una mangiatoria di 700 milioni per finché non servano una sega, appunto come questo qui, di cui vi ho parlato in un video. Noi abbiamo... ecco, questo momento è stato tolto, non so perché. E non è la prima volta. Ormai vi tocca controllare sempre se ci sono i vostri commenti che finiscono in lavatrice, cioè da rivedere, o addirittura buttati fuori e devo andare a ripescarli, perché contengono termini offensivi. Ok, alcuno di voi gli è scappata la parolaccia. Ma sarò io a decidere se è offensivo o no? Perché posso anche capire che a una persona che ha le balle girate gli possa anche scappare una parolaccia. Parolaccia è non... non giaculatoria, ecco. Se io commento un video e sono rispettoso delle linee guida, tu non mi devi rompere i coglioni. Visto che tanto poi fai passare commenti che farebbero la gioia del caporale boemo e altre cose. Veramente. Diamoci una regolata. Perché noi le linee guida la rispettiamo. Ma siccome è un rapporto d'audes, perché poi tu ci mangi su quello che noi guadagniamo, vorremmo un po' più di rispetto. Rispetto che deve essere dato a tutti. Non soltanto ai canali grossi, ma anche a quelli piccoli. Perché dovremmo essere tutti uguali. So benissimo che non è così. Non sono sceso adesso dalla montagna del sapone. Bene ragazzi, video un po' così. Noi ci vediamo la prossima settimana con l'elaborazione. Scusatemi sul secondo canale se non è uscito niente, ma il lavoro sul video dei marescialli è chilometrico. Ce ne mancano ancora cinque. La versione estesa dura 14 ore. Quella è già finita. Stiamo cercando di ridurla a una dimensione gestibile. Anche qua la cercheremo di limare qualcosa, perché effettivamente 30 minuti a maresciallo, 26 marescialli, più l'introduzione e la chiusura. Però quello è un discorso che riguarderà i Patreon o gli abbonamenti. Perché i canali di storia così funzionano, ve lo dico. Visto che quello al 70% è un canale di storia, al 30% è di altro, l'impostazione è quello di un canale di storia. I canali di storia che dovrebbero trasmettere cultura sulla piattaforma sono penalizzatissimi, ma veramente penalizzati. Tanto che molti hanno appunto i Patreon, appunto gli abbonamenti. Perché il resto non arriverà niente. Solo che secondo la mentalità dell'algo scemo, se uno parla di storia, certi termini devo usarli. Ma se quei termini sono connaturati a quello di cui stai parlando, mi dici come fai a non usarli. Dove essere un video corto, sono 15 minuti, scusatemi, quando poi mi parte la chiacchierata. Quindi la prossima settimana sarà caricato il video sui marescialli, o i video forse lo spezzeremo in due. E poi ci sarà il video che è un omaggio a Greg, ma riguarderà un romanzo di Jean Ray che connessa anche un film con Orson Welles che è Malpertuis. Io vi abbraccio tutti, noi ci sentiamo la prossima settimana con l'elaborazione ordinaria. Ciao gente!